Una donna giovane da Trente sarebbe stata lei, pedina inconsapevole, a mettere gli investigatori inglesi sulle tracce del miliardario Mukhtar Ablyazov. Quelle pubblicate dalla stampa inglese e oggi riprese da alcuni quotidiani italiani sono le uniche immagini di Olena Tyshenko, avvocato ucraino attualmente legale dell'ex banchiere dissidente kazako, catturato dalla polizia francese lunedì scorso. Secondo quanto riportano l'Eavening Standard e il Daily Mail, tutto inizio lunedì 22 luglio a Londra. L'avvocato segue per il suo assistito la causa per il crack da 5 miliardi di dollari della BTE, la banca da lui presieduta in Kazakistan. Quando la donna esce dall'alta corte, gli 007 privati assunti dalla banca la seguono fino all'aeroporto di Heathrow, dove prende un aereo per Nizza. Arrivata in Costa Azzurra, la donna nella notte raggiunge una delle ville di Ablyazov e qui viene intercettato l'uomo d'affari latitante da 22 mesi. La villa viene tenuta costantemente sotto controllo nei giorni successivi e gli spostamenti di Ablyazov seguiti dagli investigatori. Lunedì scorso l'atto finale, la banca avverte le autorità francesi che procedono al fermo dell'uomo. Proprio ieri la moglie del dissidente kazako ha avuto un incontro con la delegazione del Movimento 5 Stelle nella sua casa di Astana, dopo il suo precipitoso e pasticciato espatrio da parte dell'Italia. Voglio vedere al più presto i miei figli e mio marito, ha ribadito Alma Shalabaieva, che ha ricordato il blitz in cui venne arrestata. Anche in quel caso la polizia cercava il marito, ma evidentemente dopo l'ultimo colpo di scena non era lei la donna giusta da seguire.